Qui siamo nella stazione di testing di Piazza Magnango, che è una delle piazze principali di Bolzano. Oggi parte il concetto del Corona Pass. I cittadini e le cittadine che hanno effettuato un test nelle 72 ore, che sono state vaccinate e quelli che hanno un certificato di guarigione da Covid non più vecchio di sei mesi, possono riuscire a una serie di vantaggi. Grazie a questo tampone potremo consumare anche all'interno. Diciamo, col tempo brutto chiaramente sarà utile. E questo è il codice. Vedete, io apro e cosa vedo? Campanella Nicola. Spuntato, verde. Va bene. Dopo tanti mesi di chiusura da noi si può pranzare o cenare sia all'interno che all'esterno. Una vita la sua è sapere. Quindi si può all'interno? Si può all'interno, abbiamo fatto vedere quello che bisognava far vedere, siamo negativi e quindi mangiamo all'interno. L'ultimo servizio che abbiamo fatto noi era il 31 ottobre dell'anno scorso, loro avevano quasi sei mesi chiusi e adesso tranquillamente si comincia e stiamo sperando al meglio. Il boom chiaramente non c'è come magari certi si aspettavano, è il primo giorno, vedremo poi. Io sono di Bergamo, sono venuto qua a berli il viaggio. Perfetto, puoi entrare, sedenti, fai qualsiasi cosa quasi. Ti guardano con un po' di invidia per questa cosa. Ho sentito che ci stanno guardando con un po' di invidia, però bisogna dire che è stata veramente una bellissima innovazione e cercare di tornare veramente a quella che era la nostra vita. Dopo tanto tempo volevo godermi un'ora bella, mangiare una bistecca milanese con i bambini e sono molto contento oggi. Questa è una dimostrazione che l'economia può andare a braccio con la sanità, in questa maniera qui ci sono tanti testati e quindi se sei testato puoi benissimo andare fuori a cena o a pranzo. E' un buon, alla salute di tutti noi. E vabbè, non lo so, Goffredo...